le diamo il benvenuto nella chiesa di san giovanni non ci sono informazioni sulla data della sua costruzione come eremo oggi è una chiesa bene costruito alla periferia di quello che allora era il nucleo urbano di almadè si sa che durante il soggiorno nella città della famiglia dei bancheri tedeschi fugger proprietari della miniera di almadè c'era un capelano che celebrava tre messe settimanali per auspicare il successo della miniera reale e la fabrica lo stabilimento minerario in quanto proprietario di questo immobile aveva il diritto di nominare ogni anno il capelano della brillone di forzados e di questo eremo nel dixiotesimo secolo questo tempio era la sede della confraternita di nostra signora del rosario fondata nel 1732 quando il presbitero e confratello signore Juan Cayetano Fumajo morì nel 1756 lasciò indicazioni per la sua sepoltura nell'allora chiamato eremo di San Juan essendo di proprietà dello Stato per poterlo sepelire fu necessario chiedere il permesso al sovrintendente della miniera per lo stesso motivo l'anno successivo furono sepolti i resti mortali del primo direttore della miniera Carlos Coeller oggi giorno non c'è traccia del campanile dell'orologio risalta sulla sua parte frontale il parapetto e la sua facciata in pietra visitò un piccolo campanile e sotto di esso un rosone nel spazio precedentemente occupato da un orologio al interno c'è una scala quiocchola che porta al coro il coronamento della parte superiore e in frontone semicircolare che a sua volta funge da base per un piccolo tempietto con coronamento in frontone triangolare sul l'altare maggiore spicano le figure di San Giovanni Battista e del Cristo de los Mineros ai piedi della scala che porta al edificio si trova un accesso noto come torno di San Juan che è il risultato dell'extensione dei lavori minerari del dixiotesimo secolo fino a quel punto adesso lasciamo questo posto ma può continuare a conoscere altre storie di Almaden espostandosi al prossimo punto di interesse Grazie Grazie Grazie